sono trovato stamattina al presidio di Roma che cos'è? sembra che è abbastanza chiaro che cosa sia questo è il microfono, questa è la batteria non ci togliamo, non ci togliamo quindi questa è la cimice incriminata che sta trovata a Ustiezia? si, che c'è a Ustiezia? eccola qua, questo se ne è parlato sui giornali questo servire evidentemente a una cinta lui dice della polizia per controllare per terra, non lo so, l'abbiamo trovato per terra giralo perché tra l'altra parte c'è anche il microfono e tu vedi questo? stanno bloccando i treni, i pullman, per poi vedi come stiamo, questa è la cimice incriminata comunque l'abbiamo anche avvertiti che comunque il numero della cancelliera c'è l'ho questa è la cimice incriminata l'abbiamo trovata a Piazza di Piazzigiano vicino al Presidio Presidio di Roma a Presidio di Roma ma dove stavate accampati voi? si ah ok se ne è parlato sui giornali ma voi fate parte di qualche gruppo politico? no assolutamente non esistono gruppi politici non esistono politici qua siamo oggi già finno la politica del cazzo non conta più un cazzo la politica italiana sono tutti venduti ai poteri forti